Il 5 febbraio 1878 nasceva un genio, André Citroën, e oggi a Parigi, 5 febbraio 2014, presentiamo la nuova Citroën C4 Cactus e anche tutta la nuova filosofia di Citroën. Citroën C4 Cactus è un'auto che è destinata, come altre auto di Citroën, a segnare una svolta, a segnare veramente un nuovo passo per l'industria automobilistica, per il design e per il cliente, sapere che esiste qualcosa di nuovo, di veramente forte, che ti va a cambiare la storia del mondo dell'auto. Il mondo cambia e cambiando il mondo cambiano anche tutte le attese dei clienti e dei consumatori, quindi anche le case automobilistiche devono adattarsi a questo nuovo mondo, a queste nuove esigenze. Quello che fa Citroën è che risponde, l'abbiamo fatto sempre nelle diverse epoche, rispondiamo e sorprendiamo con la C4 Cactus in maniera molto positiva e in maniera molto concreta. In poche parole, noi diamo più valore a ciò che il cliente vuole effettivamente, quindi una nuova concezione di mondo riscrive il mondo automobilistico e riscrive anche il futuro dell'auto per Citroën. Per noi il futuro dell'auto di Citroën sarà più design, più tecnologia, più comfort, ma con un budget controllato, quindi un budget che non deve coprire tutto esageratamente, ma le nostre auto risponderanno sempre a questi must, quindi sono più comfort, più design, più tecnologia con un budget controllato. La C4 Cactus risponde a questo nuovo must di avere un'auto dove veramente mettiamo più valore al cliente, quindi su C4 Cactus c'è stato un ridimensionamento totale, un nuovo modo di concepire il design partendo proprio da zero, quindi togliendo tutte le certezze che esistevano precedentemente. C4 Cactus si presenta con tre innovazioni mondiali, di cui due sono di serie su tutta la gamma. Una grandissima innovazione estetica di design esterno, quindi sono gli airbump. Gli airbump cosa sono? Disegnano, quindi gli airbump definiscono il design dell'auto, ma al tempo stesso la proteggono, la proteggono con queste micro capsule d'aria inserite in questo materiale plastico che protegge le portiere e protegge anche i paracolpi anteriori e posteriori. Questi airbump sono integrati, quindi non c'è bisogno di manutenzione e permettono di ridurre anche il costo di riparazione dell'auto. E sono disponibili in quattro colori. Questi quattro colori si abbinano ai dieci colori di carrozzeria per ottenere quindi e per dare 21 possibilità al cliente di scegliere la propria personalizzazione. Quindi un'auto che è estremamente versatile e che si può personalizzare come uno vuole. Un'altra innovazione mondiale la troviamo all'interno. Una volta che si ci siede sulla linea dei passeggeri, del passeggero o del guidatore, si trova di fronte a un abitacolo completamente ridimensionato e rivisto. L'airbag per esempio viene spostato dal cruscotto al padiglione, quindi si allibera molto più spazio per il passeggero con una possibilità di uno spazio ancora più enorme di fronte a sé. Oltre a questo abbiamo questa plancia nuova completamente liscia, completamente lineare, molto più sottile, una seduta che è totalmente innovativa perché riprende quello che noi definiamo una seduta sofà, quindi è quasi una seduta unica e tutta la tecnologia frontale diventa molto touch. Quindi vuol dire ridisegnare completamente lo spazio, dare molto più comfort e molta più benessere quando uno è al volante. Una terza innovazione, una innovazione tecnologica che è data in opzione, che è questo tettuccio di grande dimensione ma che è trattato termicamente. Si può definire che sia il miglior tettuccio esistente in questo momento sul mercato perché è un doppio vetro trattato come gli occhiali da sole di quarto grado. Quindi vuol dire capace di isolare termicamente l'abitacolo lasciando passare tutta la luce sia nel periodo invernale sia nel periodo estivo. Poi la tecnologia diventa veramente utile perché c'è un high touch da 7 pollici che ha tutte le funzionalità dell'auto, la retrocamera, la camera di retromarcia per i parcheggi e la facilità di parcheggiare, quindi un aiuto al parcheggio. Quindi una tecnologia molto semplice, molto utile, che è quella che il cliente vuole veramente. Cioè con C4 Cactus finisce l'epoca del più ma inizia l'epoca del meglio, quello che veramente sta succedendo anche in altri settori. La parte poi importante di quello che sappiamo con la C4 Cactus è quella di andare a fare un budget contenuto. Cosa vuol dire un budget contenuto? Vuol dire che non è soltanto il costo dell'acquisto dell'auto ma uno sostiene dei costi nella manutenzione, nella riparazione, nel fare benzina, quindi pieno, una serie di somme. E come possiamo noi ottimizzare e ridurre questo budget? Dobbiamo eliminare il superfluo e andare a aggiungere tutta la tecnologia sulle motorizzazioni efficienti come sarà il caso della C4 Cactus con motorizzazioni che rispondono alle migliori normative, già le normative Euro 6, andando ad avere dei consumi ridottissimi come 3,4 litri sul diesel con soltanto 89 grammi di CO2 di emissioni o 100 grammi di CO2 nel caso del benzina. Quindi è per questo che la C4 Cactus è un'auto che ridisegna completamente tutto quello che è il mondo automobilistico, l'offerta, riporta ad un prezzo più contenuto l'offerta ed il costo globale di manutenzione perché con la C4 Cactus abbiamo un costo di manutenzione, un costo di TCO come si dice del 20% inferiore rispetto alla media del segmento C. Si posiziona allo stesso livello delle berline del segmento B, quindi un'auto di un altro livello con dei costi molto più bassi. Oggi, 5 febbraio 2014, nasce una nuova linea di prodotti, una nuova gamma che si chiama C-Lineas Citroën che riscrive le regole del design e che permette quindi al Citroën di avere una doppia offerta, linea DS e linea Citroën che risponde a questa nuova esigenza del cliente di mettere ciò che veramente importa per il cliente e le nostre auto saranno semplici, tecnologici, da un design ma capaci di rispondere a queste esigenze. Quindi più design, più tecnologia, più comfort con un budget contenuto.